Cos'è un dio? Gli dèi esistono se credi in loro. E tu chi sei? Non crederesti in me se te lo dicessi. Lui è il mio uomo, Shadow Moon. Non conosci il nostro mondo? Lo scoprirà con calma. La realtà è che ti sei fatto coinvolgere in una bruttissima storia, Shadow. Non pensi che sia sciopata? Sei dimenticata e senza amore esattamente come noi. Io me la passo benone. Vuoi scatenare una guerra? La guerra è già in corso e stiamo perdendo. Chi vi dà la caccia? I tempi stanno cambiando. Vogliamo che tu li combatta per mostrare loro chi siamo. Sono dei, per l'amor di Dio! Qual è il programma? La guerra. Niente di tutto questo pare reale. Mi sembra un sogno. Le cose non torneranno mai ad essere esattamente come erano prima. E sarà glorioso vincere o perdere. Delivari! Per l'amor di Dio! Grazie.